Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati nel mio bellissimo, ma che dico bellissimo, stra bellissimo canale proprio come voi Allora, 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 ci piace Allora ragazzi eccolo qui con i frigidelli, vi li dovevo far conoscere per forza che sono questa sorta di peperoni piccolini, verdi, che vengono cotti in padella con un goccino d'olio, l'aglio io poi ci aggiungo pure il rafforzo, perché lo sapete che mi piace l'aglio, l'aglio in polvere e devono venire così, leggermente brustoliti, ok? Come se fosse una sorta di bruschetta, diciamo la cottura è un po' quella e sono buonissimi, vi faccio vedere come mangiarli Allora oggi acquetta fresca fresca col ghiaccio tutto l'inverno non può essere così freddolose però il suono bellissimo Allora, com'è andata questa settimana? Allora, prima di tutto cin cin vedete che meraviglia, cin cin ragazzi e vedete che viene cotto con tutto il torsoletto, diciamo e poi una volta che lo mangiate, ora lo vedete, si sfila e escono fuori i semi quindi siamo pronti e quindi rimangono al torsoletto i semi sono buonissimi se vi piace la verdura leggermente amarognola ovviamente sono dipende pure da quale varietà però sono anche io ci sento leggermente un pochino di dolce però il loro sapore è del peperone un pochino amarognolo e invece capitano pure i semi, mi frega niente, vado giù e hanno pure un bel suono guardate questo che meraviglia, sono troppo buoni che buonissimi mangiamo questo qua, facciamo prendere i vari piani ci potete mettere le sorti con il riso un po' com'è il pomodoro con i ripieni di riso insomma oppure fare un impasto ma ci sto con la fascia per col lavati i capelli ancora si devono asciugati perchè vedete stanno tipo giocchiette radunati mi sono detto metto la fascia perchè quando sono bagnati è difficile mandarli indietro ma sono lunghi mi sono questa rosa sono buonissimi ragazzi li mangio da quando sono piccola ho ricomprato pure i tortellini mi li sono rifatti fare con lo zafferano perchè mi è piaciuta tanto quella variante bravissimo sta ragazza perchè mi ha detto posso fare invece di metterci la curcuma metterci il zafferano secondo me vengono più buoni e sono i tortellini che ci siamo mangiati insieme col brodo quelli spettacolari nel video Italia tortellini 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 anzi io mi scordo sempre faccio detto ma com'è una causa persa ragazzi oh mio dio e questa volta invece mi ha messo in realtà l'ho prenotato e pagato e con la zucca non vedo l'ora di cucinarmene non so quando un pezzo di farine tipo quei piselli qualcosa non so quando un pezzo di farine ma vediamo quindi preparatevi un altro video di Italia un tortellini basta fa casino madonna che buono madonna che buono questo è l'aglio ma io di no ragazzi ragazzi fatemi io voglio non metterci tanto olio prima li faccio cuocere con un cucino d'acqua così si ammorbidiscono un po' e poi dopo e poi dopo aggiungo cucino d'olio perché se facciamo lo fate anche solamente con l'acqua saponi buoni però con cucino d'olio ancora di più vedete come rimangono infatti li uirano con tutto il torzoletto che buono con tutta la buccia pure l'ultimo 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 di una grandissima serie ragazzi di una grandissima serie quindi siete pronti l'ultimo serve per pulire il piatto è il tecnico tra vostro lato di venerdice buono 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 benvenuti tanto ragazzi spero sia mai avervi fatto rilassare さん vi mando un bacio grande 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 e anche tanta tanta felicità come al solito e noi come al solito vediamo alla prossima ciao Grazie a tutti.